Non ti pago è una commedia in tre atti del grande Edoardo De Filippo ma è anche quello che ha detto il comune di Fano alla ditta vincitrice dell'appalto per l'asfaltatura in via Prima Strada a Bellocchi dopo che numerose segnalazioni da parte dei cittadini e residenti della zona erano arrivate sulle condizioni del manto stradale appena fatto lo scorso autunno e che stava letteralmente perdendo i pezzi in alcuni punti creando buche di diverse decine di centimetri di superficie Ma è un disastro, forse l'asfalto ha fatto male, non so, comunque si sta rompendo tutto Il comune ha sospeso i pagamenti quindi perlomeno Speriamo che le rifaccia, perlomeno rimettono a posto quello che effettivamente si è rotto Però se va avanti così, in due mesi già le buche, 9-10 buche quindi non so Ora dopo un esame dell'ufficio tecnico del comune l'assessorato ai lavori pubblici ha congelato alcune somme a titolo precauzionale almeno fino a quando non verrà individuata la soluzione definitiva del problema In questo momento qui nella prima strada di Bellocchi i tecnici del comune stanno effettuando i carotaggi in alcune zone individuate per capire e comprendere i problemi di questo sfaldamento in alcuni punti del manto stradale come appunto da contratto effettuato con la ditta e poi vedere quali sono le contromisure da prendere Intanto alcuni punti sono già stati rattoppati come mostrano i segni evidenti sull'asfalto E' da capire ora, una volta effettuate le analisi da un tecnico incaricato dal comune quale tipo di intervento possa essere messo in atto Al momento la ditta però si è resa disponibile ad effettuarlo senza ulteriori aggravi ma questo non avverrà prima della primavera Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!